Salve mio caro Steph! Salve! Come stai oggi? È una bellissima giornata, lo sai? Sai che giorno è, Steph? Mamma mia! È il giorno della mia vendetta, ok? Ok? Vi ricordate tutto il video degli squali che Steph mi ha fatto senza dirmi nulla? Bene, ne ho fatto preparare uno con i serpenti, Steph, totalmente pieno, totalmente! Poi, potevi anche non dirlo? Si sentono, fanno rumore, tanto rumore! Volevo solo dare conferma, Steph, perché oggi sì, tu morirei con i serpenti! Io non scendo! Sì che scendi! No, non scendo! Sì che scendi, guarda, qui c'è un bel teleporte, c'è anche una missione, guarda! Ok? Trovate tutti e 64 gli smeraldi, spasse per le varie ceste! Bye animals! Ormai possiamo dirlo, quindi... Esatto! Allora, no, non scendo! Allora, a parte che questa cosa di alleanza tra te ed animals a me non sta minimamente bene! Ma l'hai sempre fatto tu! Appunto! Contro di me! Appunto! E io mi sono ribellato, Steph! Allora, io da che mondo è mondo nel canale sono sempre stato maltrattato da te, era giusto che io finalmente avessi un alleato! Non puoi rubarmi anche l'alleato! Non ti odia anche lui, Steph! No, no, no! È chiaro come il sole che ti odia anche lui, lo sappiamo tutti, l'abbiamo visto tutti che ti odia pure lui! Allora, qua c'è un libro, se io lo leggo al posto tuo, scoprirò un sacco di cose! Era un troll per Steph! Era un troll per Steph! Ti ho rubato il tuo libro! Era un troll per Steph! Allora, ci sono due paia... Che cosa? Due paia di stivali! Ahà! E non lo so, controllatila tu a Steph! Io li ho messi qua, ci sono... Era un troll per Steph! Forse questi sono per te! No, c'è un indizio! E c'è qualcosa che devo sapere di sicuro! Steph, non lo so, ti dico la verità, ho lasciato libera fantasia a Animals, totalmente, stavo per ridire assistente segreto, totalmente ho preparato tutto lui, gli ho detto, guarda, farmi una vendetta orribile per Steph, lui ha fatto tutto, quindi non so cosa possa essere sto troll! Sto guardando attraverso alcuni alberi i serpenti che ci sono! Dai, Steph, prenditi l'equipaggiamento che iniziavo, non puoi farla lunga, su! Va bene! Dove sei finito? Dove sei finito, Steph? Che c'è scritto? Scusami, Baieni! Ecco cos'è l'altro troll! Ti dirò, messo così tanto in mezzo mi danno forse anche meno fastidio! Andiamo? Sì! Ok, eccoci qua! Oddio! A me danno fastidio quando sono coricati e poi si alzano... Quando si stanno per attaccare, quello è il senso, no? Esatto, sì! Secondo te dobbiamo andare in alto negli alberi o cosa? Cioè attaccano sti robi e io non ho delle armi comunque! Lo so! Il problema è quello che neanche io ce li ho, quindi fanno male pure a me, però a me almeno non fanno paura! Almeno quello! Un po' di paura sicuramente ne affanno, però fai finta di nulla! Magari troveremo qualcosa andando in giro? Ok! Allora, quindi dobbiamo trovare 64 smeraldi, giusto? Sì! Ok, tantini! Spero che li troveremo molto in fretta! Aiuto! No, non c'è da nulla qua! Ok! Ma attaccano sti maledetti! Sì, sì, sì! Io sono in giro, tranquillo! Adesso però andiamo a scelurare un pochettino! Dove sei finito? E io salgo! Così almeno non mi tocca niente nessuno! Ho trovato una corda, non so perché! Zombie, dai, lasciami in pace! Mi ci manchi solo tu! Pure di zombie ci sono! Sì! È perché c'è buio, capisci? Aiuto! Eh, lo so! Aiuto! Oddio! È pieno ovunque! Perché? Adesso capisci cosa si prova, mio padre Steph! Dove sei? Sto cercando i fatti dietro! Scappa e urla! Stai scadono anche dagli alberi! Ci sono slime! C'è di tutto! Steph, dove sei finito? Ti ho perso di nuovo! Dove sei? Fammi vedere! Guarda, che ho trovato una cesta! Non ci credo, non ci credo! Dove sta rampicarsi! Non è possibile! Non è possibile! No! C'è un ragno qua! Vai via! Oh cavolo, Steph! Ci sto morendo io! Ok! Perché ci sono i mostri! Cioè, gli ragni, i zombie! Ok! Ma tu non ce l'hai una spada! No, non ce l'ho una spada! Non c'era nella mia scelta, purtroppo, Steph! Ferre, non ce la posso fare! No, non ce la posso fare! Allora, Steph, io ti dico... Mi devo procurare una spada, ok? Ferre! Che c'è? Mi spieghi che cos'è questo? E soprattutto che cos'è questo? Non ho idea, Steph! Ok! Direi che ci dobbiamo procurare delle spade! Quanti smeraldi c'erano, scusami? Non le ho aperte le ceste, Steph! Ti stavo aspettando, invece tu scappi tutto il tempo! Ma devi aprirle! Allora, la spada per punizione me la tengo solo io, ok? Per punizione! Per punizione! E basta! Ma che punizione è? Anzi, guarda, faccio la persona gentile, ti do un po' di cibo, ok? Grazie! Grazie! Oh, meno male! Steph, non rompere! Meno male che c'è Ferre! Grazie, sì! Sì, 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 sì! Così almeno non muori di fame! Spesso che torno... Sto studiando dall'alto! Il survival è come fa! La ceste era per terra o era nascosta? No, ne ho viste diverse per terra, però stavo cercando tutto il tempo di raggiungerti! Io non ne ho mai visto... Allora, andiamo? Vai, andiamo! Tanto non hai scelta se io premo te! Oddio, perché sono aumentati qua sotto? Non lo so! Schivali! Ok, andiamo! Voglio usare la spada soprattutto per gli zombie, zombie ragni, perché sono quelli che mi hanno dato più noia... Guardalo che si arrampica! Ammazzali i serpenti, ammazzali! Io non mi lamento! No, no, no! Creeper, creeper! Io non mi lamento! Non esplodere, non esplodere, maledetto! Io non mi lamenterò! Stai scappato di nuovo, però stai fermo! Stai per vomitare, però... Sì, sì, odio! Stef, ho visto una specie di grifone volare sugli alberi, non mi sembrava per niente pacifico... Allora, se trovi 64 smaragli è fatta! Io sono a 9! Io sono a 4! Oddio, che schifo! Ok, mangio! Però Stef, ci dobbiamo riunire, o io ho la spada, ti conviene anche a te, quindi vieni! No, 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 no! Fammi vedere dove è il maledetto! Ok, quella è un'altra ceste! Ho visto che c'è un cartello in un punto! Qui nel pozzo? Sì, però c'è troppa roba! C'è anche la ceste! Ok, sono a 8! No, 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 dai, dai, raga! Uè, io non ti ho fatto niente! Mi sta avvelenando sto maledetto! Fede, c'è un leone! Come c'è un leone? Qua, aiuto! Stef, sto scappando, mi stanno facendo male, mi stanno avvelenando i maledetti! Dove stai a vedere? Guarda! Che ci fa un leone? Non lo so! Sta degenerando sta situazione, te lo dico, eh! Allora, facciamo che vada un attimo qua! Ok! Dai, però, i mob no! Ok! Ok! Vede, tu volevi tanto torturarmi, ma sinceramente qua l'animo si ha torturato un po' entrambi, eh! Sì, deciso! No, perché sono i problemi! Ma è che sono tanti serpenti? Sono i mob normali! Oh, no! Quelli una noia noia! Ah, ti ho riportato qua! Oh, no! Ok, così la smetti di scappare! Andiamo, stai pronti! Quanti ne hai tu? Otto! Ma fai schifo! Eh, ascolta, Steffi, io sto uccidendo tutti e tu non stai a fare una ceppa! Ammazza i serpenti! Vieni qua e non rompere! Così vedi come non impazzisco più! Seguimi! No, dai, raga, non vi potete arrampicare! Oh, no, no! Non è giusto! Cioè, tu però non avevi gli squali che si arrampicano? O che si alzano in piedi? Cioè, dai! Perché i serpenti si arrampicano, gli squali no! Eh, ma non è corretto! Mi hai dato poi alle spalle gli squali creeper, quindi mi sapevo che siamo falli! Ma erano creeper! Eh, non rompere! Eccoti qua, vieni, muoviti! Non fanno schifo! E qua è pieno, Steff! Dove è finito? Steff, hai rotto le scatole! Ma che voglio, scrivo i serpenti! E cosa devo fare nella vita? Spiegami! Cercare le ceste! Eh, le sto cercando! Lì ho visto che c'era un cartello! Cosa c'è scritto? Ma ho visto... Aia! Spezza sto maledetto che mi ha ucciso prima! Ma come la mozzicano! Che schifo! Però almeno quando la mozzicano a fare mi piacciono un po' di più, devo essere sincera! Ok! Ok, ragno! Ti ha ucciso lo scheletro, Fere? Sì! Ok! No, perché ovviamente ti attaccano i ragni, ti attaccano i serpenti e lui sta nelle linee dietro, lanciarti frecce! 14, Fere! Ah, che schifo! 14! Sto facendo meglio io di te, sei inutile! Certo, è la tua sfida, Steff! Ma io sono debuffato dal fatto che ho paura! Non rompermi! Anzi, non è un debuff, Steff! È una cosa a tuo vantaggio, perché più hai paura più ti muovi a trovare gli smeraldi e prima ce ne andiamo! Sto roba è caduto dall'albero e è successo da solo, ok? No, no! Mini zombie, mini zombie che ti vuole attaccare! 20, 20! Allora, mi riposo un attimo qua io! Tu sei sempre a 8? Quindi 28 su 64! Non riesco a fare nulla! Tra veleno dei serpenti e mob che mi attaccano e sto continuando a morire e basta! Ma ne hai ucciso qualche serpente? Ah? Hai ucciso qualche serpente? Perché? Quelli sono tutti per te! Dai! Sta scattando un botto! Almeno qualcuno uccidimelo! Giusto perché mi stanno facendo scattare al gioco! Ecco qua! Grazie! Almeno sono deboli, sembra? Sì! Non tutti! Ok! No, Steff! Sono fortissimo! Sei matto! Almeno sono deboli, morta! Cioè, sono forti! Il primo era debole! Poi continui a teleportarmi da te! È certo, Steff! Perché continuo a morire per colpa tua! È colpa mia? Sì! Perché? Perché non mi aiuta! Qua è esploso un creeper! Te l'ho detto io prima, accidenti a testa! Farezzo, con te ho la lucidità di ascoltarti oggi! Sì, dovresti! Ah! Anche qua è esploso un creeper comunque, c'è un buco! Ok! Questa cesta l'abbiamo già fatta? Ok! Sì! Sì, praticamente dovremmo romperle le ceste fatte, perché così almeno... Eh sì, non perdiamo più tempo! Già! Dai, zombie e basta! Ok! Sto acquisendo un minimo di lucidità, Fere! Ok! Qua c'è una cesca, secondo me noi abbiamo fatto! Vabbè, ma che cos'è quello però? Che cos'è? Eccoli, eccoli, sì! Uh! Qua ce n'erano un botto! Sono arrivata a 14! Ma sì! È arrivata a 14! Fere, Fere, c'è un cavallo volante che mi attacca! Come un cavallo volante? Un cavallo volante che mi attacca! Dov'è? Qua, guardalo! Oh, pazzo! Oh, vigliacco! Dai, mi ammazza! Uff! Horse mob! Horse mob! Oh, cavolo! C'è un leone qua! Ma stiamo... Eh, il leone mi ha zannato prima! Ma che sta succedendo, Steph? Non lo so, siamo a 34! Scusami! Porca miseria! Stavo andando così bene! Lo so! Capitano anche a me! Sono tanti, 64! È una cattiveria! Cattiveria belle e buone! Le chiesa tu la vendetta! Adesso te la subisci, cara! Adesso... Ma è che ci saranno delle ceste anche sopra gli alberi, secondo te? Sto per vomitare! Io adesso vomito! Che persona tragica, guarda! Io adesso vomito! E non resuscitò! Non si può smettere di resuscitare in sto gioco? Non lo so! Mi farebbe comodo! Sarebbe un'ottima cosa! Vediamo! Questa parte, secondo me, non l'abbiamo visitato bene! Take a... Per quanto fa male il loro veleno! Impressionante! Ok! Sto scheletro me ne sono liberato! Sono odiosissime! Più dosi di serpenti, guarda! Ok! Questa zona non mi sembra di averla visitata, ma non vedo nuove ceste! Io ho incontrato un tizio! Lascia perdere! Uh, ne ho vista una qua! Sempre per terra? No, vedi? Sono anche nascoste! Ne trovi anche nascoste! Eh, quelle sono il problema! Qua c'erano pochini e sono arrivate a 18! Ok! Io ne ho 20, quindi siamo a 38! Oh mio Dio, che schifo! Cerco di rompere le cesche che abbiamo già fatto, eh! Perché se no qua non la finiamo più! Me ne vado qua! Ok! Poi vado qua! No, comunque bene o male dai sono per terra! O comunque altezza, altezza visibile! Poi non so se ne ha messa qualcuno anche sugli alberi, eh! Io negli alberi ci sono sempre perché ho paura! E non ne ho mai visto! Non ne ho mai visto! Allora no, sono tutte in terra! Il problema è che ce ne mangio un botto! Ok! Questa? Dai, zombie, non rompere! Ho trovato una cesca e secondo me non l'ho mai aperto! Perché mi devi stressare? Vattene! Ok! Allora, mangio! Mangio! Che sfida ho! E adesso scappo! Adesso devo scappare! Questa ho già fatto, quindi la rompo! Che mi sta attaccando! Basta, sti zombie! Ok, vai Steph! Dai Steph, che ne troviamo altre! Dai, 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 dai! Se tu ammazzassi un po' di quei cavoli di serpenti! Non fa, Steph! Appena gli tocchi ti avvelenano tutti in branco! Cioè, non fa! Non fa minimamente! È pieno di zombie! Ferre, non basta così la vendetta! Secondo me sì! No, secondo me no! Secondo me... Vai! Trova gli ultimi, Steph! Muoviti! Gli ultimi? Siamo a metà, Ferre! Poco più! E appunto! Trova la metà! E appunto! No, vabbè, vabbè! No, no, no! Steph sta peggiorando la situazione! È pieno di endermen, ragni, zombie e creeper! Gli ho trovati tutti in una parte buia, nascosti! Aiuto! Aiuto! Cioè, non fa! Sta diventando infattibile sta roba! Ok! Continua a correre! No, vabbè! Ma ci sono mostri strani qua! Ma poi dove li ha nascosti? Sono difficilissime! Ma non lo so! E poi sono tutte... Secondo me anche in queste parti buie dove non fa passare perché ci sono troppi zombie! Mangio, 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 mangio! Oh cavolo, sono almeno cinque! Potevi darmela a una spada a sto punto? Ho visto uno zombie con gli stivali in pelle! Oh mamma mia, che brutto! Fai da bravo! Sei piccolino! Comportati bene! Cavolo! Basta, Steph! Basta così per oggi! Basta! Cosa vuol dire? Basta! Ti arrendi tu? Sì, no, no! La vendetta... Non mi arrendo, non ho più voglia! Perché tu non stai a fare una ceppa! Io sto... Sempre sugli alberi nascosto! Io devo uccidere tutti gli scheletri, tutti gli zombie, tutte le cose! Basta! Beh, quanti smeraldi hai? 18! E io 20, quindi ho fatto più di te! Eh, a posto! Brava! Grazie! Hai visto? Ho ammazzato con un colpo quello! Non l'ho visto, con una bistecata in faccia! Esatto! Bellissimo! Perché sono molto forte oggi! Ma stai continuando davvero? Ti ho detto di smettere, vuoi continuare? Cioè rimani qui per sempre? Bene, è una questione... Di che cosa? Scusa! Stavo detto, basta! Basta! Io non ne trovo altre poi! No, no, infatti! E' quello il problema! Maledetto! Maledetto! Eh sì, maledetto sto intendendo animals! Mi cadono dagli alberi! Cioè sono orribili! Allora, io sono arrivato a 27! Ok, va bene così! Basta! Ma che cosa? Basta, te! L'hai deciso tu che va bene così! Sì, mi sono stancata! Va bene! Basta! Quindi non è Steph che si è reso, non è Steph che non ha scontato la sua pena, ma è Fere che si è resa! No, sì, sono stanca! Dovevano essere solo serpenti contro di te! Non è che dovevo stare qui a combattere, a fare un botto di roba! Basta! Ma perché Eni fa finta di allearsi? Poi in realtà ci passa a chiunque, Fere! Quindi basta! Capisci? Tu ti sei fatta fregare! Ti sei fatta ingannare! Pensavi di essere solleato? No, l'importante è che ho passato una brutta giornata e di questo e sono molto felice e basta! Guarda, comunque io ci tengo a dirlo! La mia metà di smeraldi l'ho fatta, 32 su 64, io ce li ho nell'inventario! Non provarci, Steph! Devo provarci! Peccato! Ok! Spero di averne trovato anche lì! No, io ne ho fatto! La metà l'ho fatta! Basta, zitto, va! Sono da rispettare! No, non sei da rispettare! Fai schifo e te la meritavi, sta vendetta! Zitto! Basta! Chiudi il video! Chiudi! No, 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 no! Che schifo! Ok! Finito? Sì! Qua sotto altri video? Cavolo! C'è il blocco invisibile, mi dispiace! Cavolo! Vai via! Qua sotto altri video, speriamo che il video vi sia piaciuto! A me ha fatto letteralmente schifo in tutti i sensi! Meglio! Iscrivetevi al canale, campanellina e ci vediamo in un prossimo video! Ciao ciao!